Buongiorno e bentrovato, che impressione le hanno fatte i suoi nuovi compagni di squadra e una delle prime cose che le ha detto Mr. Corini? E le prime indicazioni che le ha dato Mr. Corini? Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 gli giocatori in Italia è una cosa che li inspira tecnicamente come giocano in questo momento il Lecce non ha un terzino destro di ruolo la campagna acquisti ancora deve chiudersi ma fino alla parte col Pordenone potrebbe non esserci lei eventualmente è disponibile a giocare a destra e ci ha giocato in passato come si trova in quel ruolo so he's asking about your role on the defensive line that you're playing left how do you feel about playing in other positions on the on the left I'm sorry, on the defensive line my main position is left back but I have no problem to to play on the other positions in the defensive I played like right back before in Croatia I can play yeah, like I said on every position in the back line just where the coach wanted me where I can help the team at the most I will play Allora, principalmente lui è terzino sinistra è un difensore di terzino sinistra ma ha già giocato terzino destra in Croazia e si trova bene a giocare tutta la linea difensiva e ovviamente lui giocherà in qualsiasi posizione per aiutare la squadra e si grazie un saluto più prego grazie io volevo sapere se c'era qualcuno dei suoi nuovi compagni di squadra se mi vuole fare un nome che lo aveva colpito in maniera particolare grazie se c'era qualcuno on the team that but that you've played with that had but then I get a minute yeah, anyone in on the team who's even been impressed or have made a good impression on you so far we have like I said before the question we have a lot of good plays you cannot name one or two players I think the most important is that we are working like a team and keep 100% like a team ha detto che come ha detto prima è una squadra molto forte non c'è uno o due in particolare che già lavorano come una squadra e questo per lui è il più importante è